Sì, allora noi da sempre sappiamo, noi che ci occupiamo di microbiologia e virologia clinica, sappiamo che i virus da raffreddamento che danno segno di sé, soprattutto appunto d'inverno o nei mesi diciamo più freddi, riescono a mantenersi in vita circolando in gruppi più limitati di popolazione anche nei mesi caldi. Il loro sistema che quindi madre natura utilizza per dargli la possibilità di attraversare un momento al loro sfavorevole, leggasi caldo, per arrivare poi a un momento dove ci sarà una maggiore circolazione. Quindi per quanto riguarda il coronavirus parliamo dell'autunno inoltrato sino alla primavera inoltrata. Quindi di conseguenza il virus non è che scomparirà, dovremmo però cercare di farlo circolare il meno possibile. Come? Con le solite raccomandazioni. Bisogna lavare bene le mani, lavarle con i gel idrarcolici, bisogna mantenere la mascherina e mantenerla anche per chi si è vaccinato, perché al momento non si sa nemmeno se il 100% dei vaccinati possa aver sterilizzato le alte vie respiratorie. Quindi il vaccinato potrebbe non ammalarsi o ammalarsi levemente, ma comunque trasmettere il virus e poi quindi il distanziamento sociale. Ora si va verso la bella stagione naturale che non deve risuccedere quello che è accaduto l'anno scorso, perché abbiamo visto che abbiamo fatto circolare di più il virus d'estate e ci siamo trovati con la cosiddetta seconda ondata, che è stata l'ondata peggiore di SARS-CoV-2 in Italia e in Europa. Per concludere, quest'autunno anche alla luce delle vaccinazioni il virus sarà più buono, tra virgolette, o non si può dire? Sicuramente i vaccinati e le vaccinazioni aiuteranno gli esseri umani a non ammalarsi di SARS-CoV-2, che circolerà sicuramente meno. Se mi consenti, io vorrei fare un appello, anche se viene da un minuscolo medico di provincia come sottoscritto. Allora, se non ci vacciniamo tutti e per tutti intendo tutti i cittadini del mondo, faremo il gioco del virus, perché noi occidentali ci vacciniamo e ci stiamo vaccinando, i popoli diseredati del mondo non lo fanno e quindi di conseguenza il virus riuscirà a mutare in maniera importante e radicale in queste popolazioni di non vaccinati e quindi, prima o poi, potrebbe ritornare da noi popolo vaccinato. Allora, si è parlato molto nell'ultima settimana della possibilità di eliminare le royalties dei brevetti da parte di Big Pharma. Abbiamo visto tutto quello che sta succedendo. Innanzitutto l'appello viene dal Presidente degli Stati Uniti, gli statunitensi hanno inventato il consumismo, quindi voglio dire, meno male che l'appello è venuto da Biden. Però, ad esempio, la Merkel non è assolutamente intenzionata, Big Pharma ha opposto, c'è stata una levata di scudi perché dice no, noi vogliamo continuare a guadagnare. Qua il problema è che i cittadini del terzo mondo, i diseredati, saranno sempre poveri e continueranno sempre a morire. Per loro SARS-CoV-2, Covid, è un'altra patologia infettiva che li fa morire, ma loro muoiono di tubercolosi, di AIDS, muoiono di malaria di altri, di enteriti in età pediatrica. Quindi per loro la situazione cambierà poco. Semmai potrà cambiare per noi occidentali la parte ricca del mondo, perché diventeremo poveri pure noi. Quindi è un'idiozia non garantire il vaccino a tutti.